Oggi 12 novembre, siamo in onore del buon Rasta Siamo pronti per partire 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 Siamo pronti Siamo pronti Siamo pronti per partire Lì c'è il simeto E lì sopra c'è il letto E ora andremo a trovare E ora si prova il BMW di Pepter Siamo pronti per partire 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 Ehi! Non si va? Non c'è strada! Non si va! Non si va! Non c'è strada! Ma che fa? Ma che fa?! Non si va? Ma che fa! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.